No perché è giusto celebrare con tale presenza ma insomma l'abbiamo fatto apposta però aspettiamo che finiscano insomma Grazie E così vanno scemando Io adesso faccio così no non devo dire male parole perché poi ci sono le signore del pubblico mi hanno detto che è successo che si adontano comunque intervengono dicendo che non si deve io adesso dirò una cosa che ha detto Alberto Bertoni Non so se è contento lui che lo dica questo Però abbiamo a parte che abbiamo i due poeti oggi veramente più rappresentativi della poesia italiana ma a parte questo E sono molto contento molto fiero intanto stiamo registrando per cui teniamo anche documento di aver trovato un modo di metterli insieme Perché diceva Alberto Bertoni è incredibile come due poeti di questa dimensione e dalle poetiche così lontane e dai risultati così diversi poi noi lo sappiamo noi insomma si stimino così tanto e siano amici No di solito di solito avviene chiaramente il contrario sia perché due poeti importanti di solito preferiscono essere più importanti loro degli altri no di solito e poi perché le poetiche diverse di solito appunto allontanano creano frizione In questo caso mi pare proprio che abbiamo due persone che pur appunto andando per sentire originalmente propri e distanti l'uno dall'altro poi alla fine da anni da quel che si sa insomma coltivano una sana stima e una sana amicizia Benissimo detto questo io devo solo ringraziare il pubblico e dare il benvenuto devo solo ringraziare ovviamente ancora una volta i nostri ospiti Dire che Roberto Galaverni ormai è diventato un nostro collaboratore affidabile, spero, il pretesto chiaramente è che c'è la riedizione della Corsa dei Mantelli di Milo Di Angis C'è un libro che è una specie di meditazione in realtà sull'omicidio, sul malaffare, sulle ragioni che possono portare una persona ed è un bel pretesto in realtà per parlare di Milano, per parlare di una Milano del passato e per parlare anche per rappresentare e per presentare il proprio affetto per Milano e per il mondo che ancora sopravvive di quella Milano antica Norizio Cucchi e appunto Milano di Angis hanno questi libri che sono in prosa appunto tutti e due di stampa fresche è stato un bel pretesto per portarli chiaramente a parlare poi attraverso la presentazione del libro a parlare del loro rapporto come è tra la prosa e la poesia anche perché poi a volte il limite della poesia anche in positivo è quello di incontrare, incrociare la prosa ma c'è Galaverni che farà meglio di me questi discorsi e inviterà i nostri ospiti a intervenire io vi auguro un buon ascolto e prego era un verde pallido siamo imbranati qui sopra noi andiamo forte come tecnica come tecnologia era un verde pallido e niente vi dicevo l'incontro lo abbiamo strutturato così faremo almeno due interventi faranno i nostri ospiti almeno due interventi a testa prima chiederò loro di parlare del loro romanzo di spiegarci un po' come l'hanno scritto, di cosa si tratta magari di leggerci qualche passaggio se intendono farlo e poi in un ulteriore passaggio ragioneremo un po' sul rapporto per loro nella loro officina poetica creativa tra la scrittura narrativa in prosa e quella poetica perché insomma l'ha anticipato Gian Mario Villalta comunque sia alla mia destra e alla mia sinistra ci sono due importanti poeti e sono essenzialmente poeti, prevalentemente poeti anche se questo non ha impedito esperienze di scrittura diverse così partiremo in ordine alfabetico quindi dirò subito qualcosa di questo romanzo ve lo faccio vedere che è appena uscito di Maurizio Cucchi per l'editore Guanda si intitola L'indifferenza dell'assassino è il quarto o quinto episodio narrativo è tuo tre e mezzo è vero appunto ormai è diventata abbastanza così una pratica di scrittura quella narrativa che Maurizio Cucchi segue non sto a farvi tanto la storia, la cronologia poetica di Maurizio Cucchi e Milo De Angeli sono due importanti poeti italiani milanesi cominciano a scrivere e pubblicare tra l'altro nello stesso anno, il 1976 si è parlato in quel periodo di nuova poesia e si sono presi e sono entrati anche nella storiografia critica della poesia del secondo novecento insomma i loro libri il disperso di Maurizio Cucchi e somiglianze di Milo De Angeli se questo anno, 1976 anche come la partenza di certe cose ecco L'indifferenza dell'assassino è un romanzo interessante una specie di di inchiesta su un personaggio nato alla fine del settecento e poi non vi dico com'è finito perché il romanzo lo svela un po' lui nel corso dell'ottocento che comunque è un serial killer quindi un archetipo di una tipologia umana e antropologica che si è poi rinnovata e il narratore che è esplicitamente poi Maurizio Cucchi va sulle tracce di questo personaggio che agisce nella sua Milano quindi tante volte i luoghi che vengono descritti e proprio indagati odorati, toccati nella ricerca di suggestioni, di prove, di particolari, di indizi è la Milano che poi la poesia di Maurizio ha raccontato già da alcuni decenni fin dal primo libro a me è anche venuto in mente che c'è un raccordo molto forte col primo libro di poesia di Maurizio Cucchi che ho detto il disperso perché anche quello nasceva come l'inchiesta su una persona e sulla sua fine sulle sue vicende insomma un libro fatto di frammenti poetico-narrativi insomma e quindi già lì c'era questa disposizione diversa però alla ricerca testimoniale ed è un libro piuttosto variato è scritto con verve con spirito sulle tracce di questo Antonio Bruggia è lui il personaggio ci sono momenti in cui il narratore che come un piccolo Sherlock Holmes poi va nella via nei luoghi nella residenza dove lui aveva vissuto nella cantina dove aveva sepolto i cadaveri e con una specie di eredità poi manzoniana che è la grande eredità che hanno un po' tutti gli autori autenticamente lombardi ma direi di più milanesi c'è un ripercorrere e un riprendere e un interpretare gli atti processuali le vicende quindi viene in mente la storia della colonna infame questa specie la chiamerei appendice ma in realtà di narrazione integralmente connessa ai promessi sposi che poi tu citi anche a un certo punto del romanzo perché salta fuori proprio il ricordo della colonna infame che è questo cippo lo racconta il Manzoni che fu messo successivamente a ricordo dell'ingiustizia e della ferocia con cui furono condannati ingiustamente condannati e giustiziati alcuni personaggi della Milano seicentesca raccontata del Manzoni accusati di essere i famosi untori cioè i portatori della peste e quello è davvero questo cippo un po' l'archetipo penso di tutta la poesia e narrativa milanese il senso di colpa l'espiazione l'etica il problema della giustizia di ciò che è retto di ciò che è sbagliato del bene e del male salta fuori anche un maestro di Maurizio Cucchi che è Giovanni Raboni che aveva scritto proprio un libro Le case della Vretta che si riferiva al luogo dove era la colonna infame insomma il libro è molto variato documentato con una banalità scritto bene appassionante saltano fuori subito i nomi di alcuni poeti Giovanni Raboni Mario Sant'Agostini che era qui fino ad oggi quindi il retaggio anche da quel punto di vista lì non mente quindi insomma è un libro gradevole io direi questo di chiedere a Maurizio insomma di parlarci di questo ultimo di questa sua ultima fatica narrativa ma anche ricerca poi che viene narrata quasi direttamente e non dissimulata perché molti romanzi di ricostruzione poi ti lascio subito la parola di ricostruzione di eventi passati spesso presuppongono da parte del narratore una ricerca a monte che ovviamente c'è stata anche in questo caso ma che poi non viene narrata direttamente ma se ne danno solo i risultati nella ricostruzione della storia qui il narratore è in media stress viene raccontato proprio come lui si interessa e incontra la figura del Bruggia come va a cercare questi luoghi quindi c'è come una doppia narrazione la narrazione della vicenda ricostruita del personaggio del serial killer ma anche di colui il narratore insomma che ne sta cercando le tracce e cerca di interpretarle e di ricavarne anche una lezione insomma umana e civile ma grazie grazie di quello che hai detto io ma non è che ho molto da dire direi che mi sono anche molto divertito a fare questo libro è una cosa per me insolita e sono stato un po' portato a farlo anche da una serie di circostanze accidentali e di coincidenze che come dico poi all'inizio mi avevano portato sulle tracce di questo personaggio orrendo orrendo ma anche un po' imperscrutabile in qualche modo con tutta questa distanza di tempo che ci separa persino interessante se vogliamo cioè per varie ragioni varie volte mi ero imbattuto in lui una volta faccio una passeggiata in una piccola strada milanese larga tanto così scusa più o meno poi vengo a sapere che lì c'era la cantina dove un tale di cui io sinceramente ignoravo totalmente l'esistenza anche se era stato infelicemente celebre a suo tempo un tale aveva commesso degli omicidi e aveva sepolto lì le sue vittime poi passo per una libreria e trovo una specie di romanzo intitolato Il giallo della stretta baniera una specie di romanzo un romanzo vero onesto un po' così insomma non niente di speciale in una libreria di via Dante pochi giorni dopo l'ultima cosa è stata che a un certo punto passeggiando come io faccio abitualmente per la città è la mia attività preferita devo dire dopo lo scrivere magari un po' meno faticosa a Milano in via Mercanti c'era perché non c'è più adesso c'è un baracchino di chincaglierie assolutamente ridicole c'era una bancarella di libri antichi o vecchi e vedo proprio appoggiato a quello che poi è il palazzo dei giure consulti una grossa dispensa che a occhio poteva essere della fine dell'ottocento mi avvicino e vedo che combinazione ancora una volta questa dispensa tratta di questo personaggio di cui c'è un'illustrazione abbastanza suggestiva perché si vede Antonio Boggia il killer che sorregge il baldacchino vicino al prete lui era molto devoto nella chiesa di San Giorgio mi avvicino vedo che si tratta di una pubblicazione abbastanza consistente poi l'ho comperata e se noi la stampiamo possono venire a sviluppare una cosa come 200 pagine almeno piena di belle illustrazioni d'epoca di disegni fatti anche al processo eccetera e chiedo quanto può costare e dentro di me dico l'ho scritto poi anche nel libro fino a 50 euro ci arrivo chiedo all'omino e mi dice 5 euro a questo punto dico non potevo non prenderlo e mi sentivo continuamente richiamato da questo mostro io non sono un frequentatore di archivi e ho avuto la fortuna che in questa dispensa ci fosse tutto cioè c'era la ricostruzione del processo c'erano le illustrazioni c'era quello che allora era stato riportato dai giornali poi sono andato naturalmente a guardare anche i giornali d'epoca e ho trovato delle cose anche in giornali ufficiali il fatto era stato talmente scandaloso e importante che persino i giornali di allora che non come adesso l'avrebbero sbattuto naturalmente come notizia di prima importanza allora e fino in fondo quando ero ragazzo io si dava una certa gerarchia di importanza alle notizie non si diceva al pubblico piace questa roba diamogli questa roba si diceva al pubblico piace questa roba cominciamo a mettere le notizie più importanti comunque prima però il fatto era abbastanza increscioso ed era stato trattato molto a quel punto mi sono messo a scriverlo sinceramente volevo raccontare questa storia di cui avevo tante notizie senza dare il minimo sospetto che io volessi scrivere un libro giallo ecco io non sono mai riuscito a leggere un libro giallo dall'inizio alla fine in tutta la mia vita ci ho provato quando ero ragazzo perché mi sentivo in condizione di inferiorità perché gli altri leggevano i gialli non mi riesce di leggere i gialli e quindi ho subito messo davanti le mani dicendo guardate che non si tratta di un giallo naturalmente ma no ma però quando sono andato alla libreria Feltrinelli di Milano me l'avevano schiaffato tra i gialli e c'era lì un commesso simpatico che forse mi conosce se tutti li leggevano come te i gialli non ne vendevi uno sì ma io ho detto al commesso subito senza abbia pazienza io mi vergogno un pochino ma me lo sposti cioè poi se se ne vende se se ne vende anche di meno a me non importa cioè ho un'età tale per cui non mi importa se mi leggono cento persone o centomila basta che ci sia qualcuno gentile che magari vuole leggere se poi mi leggessero centomila comincerei a dubitare di essere un fesso ma comunque questo è tutto un altro discorso il racconto mi ha divertito sono stato persino in vari luoghi per esplorare le tracce del simpatico individuo il quale era nato in un posto molto bello sul lago di Como Urio un paese che avrà 300 o 400 abitanti eppure essendo nato nel 1799 in un paese di questo tipo questo tizio sapeva leggere e scrivere abbastanza sorprendente io credo che l'analfabetismo a Urio fosse del 90% e in Lombardia per lo meno del 50-60% mi sono fatto poi dare dei dati aveva anche un taccuino con cui andava in giro e prendeva nota di tante cose era straordinariamente pignolo e pervicace e tenace se non riusciva a compiere un'azione perché egli si mettevano contro dei dati burocratici dei fatti legali cercava di ritornare sulla sua situazione e ha ucciso non era un malato mentale no no lui uccideva per denaro e preferibilmente colpiva alle spalle per essere più sicuro e durante il processo è abbastanza buffo perché lui finge di essere matto e quando lo interrogano dice ma intanto dice sempre che lui ha colpito secco e quindi la vittima ha sofferto poco non era tanto vero una scura dalla parte del martello e poi dice che gli aveva preso un estro ma c'ha pa un estro dice invece era tutto straordinariamente organizzato erano tutti delitti orribilmente premeditati no e quindi tutto questo rende il personaggio abbastanza interessante anche perché aveva una destrezza particolare nell'organizzare i suoi colpi cioè pensate che a un certo punto il delitto ultimo quello per cui lui viene arrestato è questa cosa lui era entrato nelle grazie di una signora anziana che era proprietaria di un immobile intero cioè di un palazzo di tre piani di cui lei occupava un appartamento in una piazza che adesso si chiama piazza Mentana a Milano ma che allora non poteva chiamarsi Mentana per ovvie ragioni storiche e lui era riuscito ad entrare nelle grazie di questa donna a cui faceva dei lavoretti e che era una specie di megera che non voleva vedere nessuno e un giorno mentre lei parlava di politica dice ai piemontesi figuratevi questo signore Antonio Boggia che era a Milano anche durante le cinque giornate avrà preso per pazzi questi che facevano delle cose che non li riguardavano direttamente allora lui prende una scura e l'ammazza dopodiché la seppellisce e poi si fa fare da un amico Mario Olo ma che sapeva anche lui scrivere una procura falsa è molto meticoloso lui è molto preciso e in genere dopo aver compiuto le sue feratezze si prende una pausa di riflessione come dire o perlomeno di relax in quel caso lui dorme un pochino nella stanza dove giace la morta sanguinante e dopo averla sepolta va a fare una passeggiata molto bello questo il gesto non era particolarmente elegante però quasi poetico si si perché poi lui prende nota di tutto questo comunque per farla breve lui a un certo punto si fa fare una procura che lo nomina amministratore totale dell'immobile e a questo punto lui provvede a aprire dei negozi vende della mobilia di cui ovviamente intasca il denaro essendo l'amministratore totale dell'immobile ed essendo la padrona dice lui a Como dove non poteva quindi essere tanto facilmente raggiunta dopo tratta la vendita dell'immobile lì non riesce tratta me l'affitto un signore vuole affittarla per 12 anni e a questo punto scattano delle norme legali per cui lui deve anche esibire tenete conto che questo era l'ultimo gesto della sua eroica carriera ne aveva fatti fuori tre prime e tentato di uccidere un altro e gli era andata male e ci sono dei cavilli legali per cui lui deve esibire non basta che ci sia lì il procuratore ci vuole il proprietario e lì c'è qualche problema perché il proprietario non poteva saltar fuori e allora lui prima esibisce una signora perrocchio si chiamava grande e grossa poi in un secondo momento questa qui non c'era più esibisce una signora perrocchio piccola e magra insomma alla fine lo prendono perché aveva per falso per un atto non so come si chiama per la falsificazione di questo documento e da lì poi passano a indagare e trovano tutto quanto il suo percorso fino a quando lui questo è un dato storico abbastanza importante lui viene impiccato nel 1862 si non dovrei dirlo ma tanto lo dico subito nel 1862 lui viene impiccato ed è praticamente l'ultimo impiccato o giustiziato diciamo del nord diciamo del regno d'Italia perché naturalmente il papa nel frattempo tramite il bravissimo Mastrotita e il suo successore continuava a uccidere sulla pubblica piazza con una certa normalità fino al 1870 mentre invece il gran ducato di Toscana aveva già abolito la pena di morte e però in Lombardia c'era ancora non si era ancora arrivati a poterla togliere di conseguenza anche l'avvocato difensore dice sì lo so che la legge prevede questo però oramai siamo orientati in una direzione opposta quindi cerchiamo di non condannarlo a morte lui viene invece condannato a morte mi piace molto come come te il boia tra l'altro viene fatto venire da Torino perché Milano non disponeva neanche di un boia e lui l'unica cosa che che fa alla fine quasi riscattandosi e chiede scusa agli avvocati per averli disturbati e poi al suo boia dice mi raccomandi mi raccomandi mi raccomando non mi faccia non mi faccia star male non mi faccia soffrire molto a un certo punto mi viene persino un sentimento di pietà nei confronti di questo personaggio perché di fronte alle situazioni estreme a momenti tragici anche gli esseri più efferati riescono a suscitare in noi qualche piccolo sentimento di pietà mi ricordo e lo cito anche mi sembra il Maratoneta in cui c'era Lorenzo Livio un attore mostruoso Zer Zer mica Scamarcio il quale era un essere spreggevole a un certo punto quando gli portano via tutto lui si vede arrampicato a una specie di grata che cerca di resistere e Lorenzo Livio è talmente bravo che riesce a rendere pietoso anche quel personaggio disgustoso che lui impersonava e questo naturalmente non significa voler riscattare il personaggio e concludo dicendo solo una cosa che ci è andata bene voglio dire mi è andata bene a noi tutti credo non credo che siano dei serial killer qui presenti di non avere un'identità come qui non si sa mai ma di non avere un'identità come quella del Boggia noi in certe volte ci giustifichiamo dicendo è matto o è altro non appartiene l'umanità così lo escludiamo dal nostro orizzonte non riguarda noi e poi grazie alla nostra meravigliosa bontà lo perdoniamo pure invece no è come noi solo che a noi ci è andata bene che per una serie di coincidenze di circostanze fortuite le nostre modalità si sono dirette in un senso piuttosto che in un altro oppure qualcun altro può trovarsi in una gradazione intermedia ce ne sono tante che su tutti i giornali vediamo tutti i giorni eccetera eccetera quindi stiamo attenti no prima di essere così di sentirci totalmente sollevati dal non essere come questo Antonio Boggia ti dicevo tra l'altro proprio su questa cosa qui tu insisti molto nel cercare il grado di consapevolezza suo che tra l'altro non abbiamo ricordato lui beveva anche sì lui era alcolizzato era alcolizzato e quindi spesso tu come se avessi in mente tanta cronaca degli ultimi anni dove non so il colpevole viene rifugiato nella malattia mentale tu cerchi di non giustificarlo lui lo fa lui questo perché lui era stato ricoverato per un certo periodo in un manicomio perché prima di questi eventi no scusate a un certo punto insomma dopo i primi tre omicidi lui di cui non si sapeva niente lui cerca di ammazzare un altro lo invita nel suo studio diciamo che un bugigattolo dove operava così brillantemente perché voleva farsi mettere a posto dei conti poi lo fa sedere sulla scrivania che aveva rubato a un suo amico precedentemente ucciso e mentre questo sta facendo i conti lui con un cuneo questa volta e qui è l'errore perché lui ha sempre ucciso con la scure con un cuneo gli dà sulla testa questo cade solamente che aveva in testa il cappello duro che allora si usava e poi si rialza e cerca di andarsene lui gli corre dietro scusandosi e lì però questo me lo sono un po' immaginato io che il me scusa e lì incontrano incontrano delle guardie che data l'insensatezza del fatto perché era il pian terreno c'era la finestra e lo portano in un manicomio la Senavra che io quando ero ragazzino avevo visto c'è ancora il palazzo della Senavra in una Milano semi periferica ormai semi centrale era diventato un ricovero per poveri io ci passavo davanti perché era vicino a una chiesa in corso 22 marzo a Milano e viene ricoverato lì e sta lì tre mesi allora poi lui si servirà di questo precedente per dimostrare che le sue feratezze erano dovute a malattia mentale e questo però come dire è una scusa che dura poco è molto fragile anche perché poi lui a un certo punto fa una sorta di autorete che dimostra cioè dice lui non ha manifestazioni evidenti è sempre semi impassibile di fronte alle cose di fronte a quello che gli dicono tutte le persone che passano al tribunale davanti al presidente eccetera eccetera e dice beh io ho fatto dei lavori un giorno in un piccolo manicomio era vero lui faceva il muratore nonché a Portinaio non è che gli mancasse da vivere però aveva il vizio del bere e infatti a un certo punto il presidente gli dice ma scusi lei aveva ricavato 1400 lire da questo omicidio e dopo che cosa ne ha fatti perché 1400 lire era una cifra enorme da quello che si capisce e lui fa l'iscialla qua in Bagordina molto nobile ma insomma e allora deve uccidere un altro e ah sì lui a un certo punto prima della requisitoria interviene e dice quando lavoravo alla Senavretta a questo piccolo manicomio vedevo delle persone che erano dei ricoverati che giravano lì mi parevano normali e poi però mi dicevo ma perché sono ricoverati perché sono in manicomio e loro stessi naturalmente dicevano le stesse cose chissà perché ci mettono qui dentro allora ho parlato con un infermiere e questo infermiere mi ha detto beh ma ci vuole l'esperienza dovreste vederli sì adesso sono quieti tranquilli eccetera ma di notte che cosa ci tocca fare per tenerli tranquilli e vedete dice il Boggia io adesso mi vedete qui tranquillo sereno e normalissimo ma dovreste vedermi nei momenti troppo lucido no per poter essere creduto pazzo e infatti non viene creduto pazzo aveva addirittura convocato tutti i suoi compagni di galera di Camerotto perché pare che dormissero in dei camerotti per dimostrare attraverso le dichiarazioni dei suoi compagni di galera che lui era matto magari si alzava ogni tanto di notte anche perché in condizione di astinenza probabilmente avrà avuto qualche problema con la mancanza di alcol però non funziona neanche questa via chissà io devo dire per concludere definitivamente che in realtà io ho fatto questo libro per tre ragioni per Milano per l'Ottocento e per questo mistero che tale sempre rimane del male della presenza del male che è anche il titolo poi del titolo del primo romanzo che avevo scritto passiamo al secondo libro al secondo romanzo anche se è un romanzo anomalo quello di Milo De Angelis perché non è scritto con procedure insomma tipicamente narrative di intreccio insomma lineare progressivo a differenza del libro di Maurizio che è un libro recentissimo insomma scritto qui nel tempo invece il libro di cui si tratta primo di Milo De Angelis questo è La Corsa dei Mantelli che è uscito è stato ripubblicato dall'autore e dall'editore Marcos C. Marcos ed è un romanzo che Milo ha scritto e pubblicato nel 1977 scritto tra il 76 e il 77 quindi poco dopo l'uscita a ridosso dell'uscita del suo primo libro di poesia quindi un testo in prosa preferisco chiamarlo così che non propriamente romanzo anche se in certi versi si può leggere in quel modo perché comunque una storia c'è anche in questo caso insomma forse è il destino di un lettore che conosce De Angelis attraverso la sua poesia la lettura di questo romanzo ha aperto tanti contatti tante relazioni con la sua scrittura poetica l'utilizzo dell'immaginazione dell'immaginario lo spaisamento la consuetudine con certe figure questa è la storia che si aggira attorno principalmente a due personaggi Daina che è anche questa una figura misteriosa una ragazza arrivata dall'est dal territorio dell'estrema Polonia sul confine della Russia Daina che poi potrebbe essere Diana in realtà come divinità e come musa e Luca che la incontra e la contra in una situazione assolutamente misteriosa come tutta l'ambientazione e la collocazione delle scene di questo libro è misteriosa e la insegue un po' come se fosse angelica per incontrare una specie di rinnovamento per incontrare il proprio destino e ci sono tante dicevo situazioni comuni alla poesia di De Angelis l'amore per la giovinezza per l'atletismo per la per la prova fisica per il gioco perché in questo romanzo ci sono tante situazioni di giochi che sono anche delle prove e degli attraversamenti così di confini e di passaggi della nostra esistenza come se ci fossero tanti stadi e un amore per la giovinezza l'atletismo la bellezza è greco come un lettore appunto della poesia di De Angelis sa cioè con qualcosa di pagano di puro di inossidabile anche di utopico se vogliamo se ricordate una delle poesie più celebri di Milo cioè Donatella che è una poesia di biografia sommaria ecco quel tipo di immaginazione di rappresentazione c'è ed è scritto vi dicevo non attraverso una lineare progressione narrativa anche se forse nessun romanzo è scritto così con ogni romanzo ha il proprio intreccio la propria costruzione ma soprattutto è fatto di tanti vedete frammenti narrativi in prosa a volte battute di dialogo proprio come spesso ci sono nelle sue poesie attraverso le immagini accostamenti metafore ed è completamente spiazzante perché questi luoghi possono essere improvvisamente luoghi così riferibili a una possibile Milano o città che conosciamo e luoghi totalmente invece immaginati isole e si passa dall'una dall'altra non si sa come ecco attraverso quali porte quali passaggi a me è venuto un po' in mente leggendolo anche se magari non c'entra niente il ragazzo è morto e le comette di Parise cioè il suo primo romanzo che è tutto costruito attraverso una sfasatura diversissima ambientata a Vicenza ma anche quello con una collocazione immagina costruito attraverso una violazione dei passaggi cronologici temporali logici e più prevedibili e quindi è scritto per direi più che per narrazioni per accensioni liriche per folgorazioni di immagini magari poi Milo ci leggerà qualche passaggio non so io ti direi di così di riportarci agli anni in cui l'ha scritto e magari alla necessità dell'averlo poi riproposto e ripubblicato ho dimenticato di dire che questo romanzo ha subito anche varie così adattamenti per la rappresentazione in teatro una è stata anche fatta da Viviana Nicodemo che è qui presente ma è riportata anche in appendice al romanzo vero e proprio quindi è in realtà un testo quasi allo stato fluido e magmatico quasi come se ci fossero dei cartelloni delle scene che si possono aggiungere o togliere senza compromettere l'insieme eh dici bene Roberto è una più che un racconto è un insieme una raccolta di frammenti ora lirici ora narrativi ora entrambe le cose che convergono sulla figura di Daina di Diana Daina Diana certo Daina è una fanciulla intrepida guerriera casta selvaggia pagana lunare angelica certo angelica e sempre in corsa figlia di Artemide non figlia di Venere figlia di Atalanta ancora di più amante delle sfide delle gare dei duelli e fa parte di una banda di una banda di maschi tutti innamorati di lei perché Daina è così ci si innamora a prima vista e in particolare Luca Luca che la seguirebbe in capo al mondo e così avviene Daina trasporta in un vortice inarrestabile Luca da una parte all'altra dell'Italia dell'Europa e della terra intera lo 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 innesta in una serie di avventure di giochi ancora di di gare di sfide e Daina è una ragazza della via Pall è una ragazza un'eterna adolescente che vuole arrestare il tempo la maturazione del tempo attraverso continuo interruzioni attraverso fulmine interruzioni e alla fine conduce Luca decidono insieme di di morire ancora una volta è Daina che decide in maniera rapida e e non motivata la loro la loro morte Daina è anche la rosa che non cosi è anche la la ragazza che avrei voluto amare la ragazza che entra nella banda dei maschi che vi entra e si mette in gioco e non si limita ad applaudire o a fare il tifo per l'uno o per l'altro e Daina si è la protagonista del racconto ma in realtà forse è l'adolescenza la vera la vera protagonista l'adolescenza questo questi pochi anni che però sembrano infiniti e improsciugabili dove dove la famiglia è già alle spalle non ha più la presa che aveva un tempo e dove la maturità è ancora lontana ancora oltre i cortili oltre i portoni oltre i cancelli rimane questo tempo sospeso questo tempo di confine dove ogni ragazzo ogni ragazza comincia a conoscere se stesso comincia a giocare a correre a saltare a lottare e comincia a conoscere quelli che poi saranno con altri nomi e con altri volti i suoi compagni i suoi fratelli di di tutta la vita e l'adolescenza si è la protagonista del racconto l'adolescenza è uno scisma è un tempo di separazioni violente di solitudini irraggiungibili no di di parole ognuna delle quali è una parola ognuna delle quali è una parola d'onore è una parola non ritrattabile perché l'adolescente e credo che tutti i grandi romanzi sull'adolescenza compreso il ragazzo morto e le comete di Parise che giustamente Roberto ha citato ma penso anche a Vargagliosa la città i cani penso penso ai dolori del giovane ai turbamenti del giovane Turles di Musil al grande amico Molna di Alain Fournier sono tutti romanzi in cui da una parte c'è la gerarchia della banda che può essere severa crudele spietatissima come in Musil però giusta e dall'altra c'è invece il buonsenso vagamente spettrale e decrepito dell'adulto del padre del prete del preside o del poliziotto e allora ogni ragazzo magico come lo definisce Vargagliosa ogni ragazzo magico rifiuta di essere localizzato come nelle intercettazioni telefoniche si interrompe di parlare un attimo prima che l'altro capisca dove siamo ecco che nella banda si interrompe il gioco si cambia gioco si vira si fa uno zig zag continuo tra le vie dell'esistenza perché perché il mondo adulto non si affacci a a rapirci e a convincerci che è finita è finita l'ora dell'avventura del rischio della messa in gioco così estrema totale senza senza riserve di di se stessi e se volete così sentire un frammento della corsa vi leggerei adesso due frammenti brevi alla fine uno più lungo le ombre del campo rifanno di notte le partite che avevano visto al mattino le porte sono lontanissime l'una dall'altra i portieri non riescono a vedersi non sanno quello che accade a centrocampo dove tutto è diverso e non è più estate pantano sabbia macchie di neve intralciano i giocatori alcuni in cannottiera altri con le sciarpe al collo di sera le ombre fanno cose che nessuno potrebbe vedere si aggirano per i campi di calcio vuoti ripetono infinite volte i dribbling non riusciti e i tiri al volo mancati dai ragazzi hanno una camicia piena di macchie di fango e annotano ogni gesto sul loro quaderno le ombre sono così scure il campo di calcio così buio che nemmeno quando passa la corriera si vede qualcosa nonostante che daina aguzzi gli occhi giocare a pallone non è come giocare un altro gioco pensava nascosta dietro al terrapieno e adesso un dialogo tra daina e luca è vero luca dimmi è vero sì non potevo fare altro ma come hai potuto non potevo fare altro erano in tanti avevano le fionde non potevo fare altro avevi paura sì avevo paura hai pensato a me sì ho pensato a te e hai fatto il mio nome sì e loro loro si sono messi a ridere e poi poi mi hanno detto di tornare da te ti hanno chiamata puttana e tu io ti ho difesa ho detto di no ho detto e poi si sono sbottonati i calzoni e mi hanno pisciato addosso e tu io abbassavo gli occhi piangevo non l'avevi mai fatto no non l'avevo mai fatto intanto ringrazio Milo e già anche Maurizio insomma già per quello che hanno detto fino a questo punto così adesso una domanda che potrebbe apparire diritto ma che non vuole essere diritto che è quella del così del rapporto lo anticipavo prima nel vostro cantiere di poeti tra poesia e quindi tra il verso e la scrittura narrativa la chiedo così vi chiedo molto semplicemente di dire così ognuno ha proprio poi il punto di vista inevitabilmente personale su queste cose lo chiedo prima a Maurizio se quando scrivi narrativa gli intendimenti la gestione della parola poetica le zone della tua mente che operano sono diverse secondo te e quindi le due cose non sono assolutamente in contatto sovrapponibili o se invece ci sono rapporti di natura diversa insomma raccontare questa cosa se chiudi il libro dai versi oppure lo ha ma non so io quando ero molto giovane tra i 15 e i 20 anni ho praticato un po' tutte e due le cose ho scritto dei racconti ho scritto delle poesie avevo scritto praticamente anche concluso quello che poi ho pubblicato nel 2005 con non sostanziali cambiamenti ma solo dei cambiamenti di ambientazione qualche taglio il male nelle cose il primo romanzo che ho pubblicato ma in realtà la situazione tutto l'insieme era già pronto nel 65 quindi io a quell'epoca ho lasciato che le cose andassero come dovevano andare non ho assunto nessuna decisione non sapevo quale potesse essere la via più adatta che poi invece credo comunque fosse quella della poesia alla quale ho dedicato la mia vita praticamente da allora quasi completamente il primo romanzo che è uscito è uscito perché ho pensato che era un dovere verso me stesso di concludere qualche cosa a cui tenevo e tenevo molto per non lasciarmi andare alla pigrizia poi sono sono accadute altre cose come per esempio la pubblicazione dell'attraversata di Milano che è stata una gentile proposta di Antonio Riccardi alla quale io stupidamente non avrei pensato ma siccome poi credo anche moltissimo al lavoro su commissione alla committenza l'ho fatto e sono molto contento di averlo fatto poi è capitato che avessi delle situazioni da incrociare più con la prosa che con la poesia è uscito La maschera ritratto che è un libro secondo me praticamente di confine tra i due generi soprattutto nella prima parte anche perché bisognerebbe fare un discorso serio e approfondito su quale può essere il futuro del verso e su quanto la prosa non possa invece assumersi le responsabilità anche del racconto del pensiero eccetera la poesia non possa sì sì esatto scusami la poesia è un discorso molto serio che potrebbe portare a quella che mi pare più o meno negli anni 60 i francesi chiamavano écriture ma andando oltre tutto questo ieri mi capitava parlando con Simic che è un poeta che ha praticato molto bene sia la prosa che la poesia e che naturalmente anche nel verso ha una forte presenza di situazioni prosastiche ma di pensare che appunto in fin dei conti oggi come oggi il verso è diventato una struttura una convenzione piuttosto debole e che di conseguenza occorre porsi il problema della sua possibile sopravvivenza totale ricordandoci che d'altra parte non c'è niente di totalmente nuovo in tutto questo se pensiamo che lo stesso Leopardi diceva che il verso non è assolutamente essenziale alla poesia o Baudelaire diceva presso a poco che ognuno di noi in una condizione di particolare come dire adesione se non ricordo esattamente particolarmente felice insomma ha sognato di comporre un poemetto in prosa lui l'ha anche fatto naturalmente quindi io ho l'impressione che si dovrebbe molto riflettere su questo su questo argomento e vedere se è possibile con la concentrazione l'energia e l'economia della parola che la poesia presenta e che deve necessariamente avere non si possa pensare a un salto questo dovrebbero farlo i più giovani peraltro insomma forse Milo che è più giovane di me di cinque anni e mezzo penso che loro dovrebbero però è un problema secondo me di forma molto 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 importante il superamento dei generi che tra l'altro potrebbe andare anche in soccorso di questa narrativa da strapazzo che oggi circola con autori che ti dicono che la loro cultura è quella della fiction della televisione e della musichetta rock no? e con un linguaggio che molte volte è così banalmente aderente alla prosa che ti danno l'impressione che non abbiamo ancora capito che tra parola scritta e parola detta c'è una differenza abissale ecco io credo che poi con il passare degli anni diventi molto più naturale per molti un rapporto con la prosa che in età più giovanile più giovane è più problematico io mi ricordo gli ultimi tempi di Vittorio Sereni che non è morto molto anziano perché non aveva neppure compiuto 70 anni che diceva ma ormai io voglio dedicarmi soltanto alla prosa ecco probabilmente per rispondere meglio di quanto abbia fatto la tua domanda i due ritmi diversi sono molto importanti ed è probabile che il respiro ecco differente della prosa possa subentrare con maggiore facilità con il passare del tempo si verifica abbastanza spesso non è il mio caso io ho quasi pronto un altro libro di poesia perché la poesia è comunque la cosa a cui maggiormente mi affido ci possono essere delle eccezioni che nella nostra letteratura sono abbastanza rare però io quando penso alle prose di Sandro Penna o Ernesto di Saba insomma dico benvengano alle prose di Sereni appunto benvengano dei poeti che reintroducono vitalità espressiva e pulizia verbale nel discorso della prosa che è qualcosa di cui oggi molto abbiamo bisogno devo dire che passata una certa età scrivere in prosa mi risulta piacevolissimo e di una facilità impressionante e allora cerco di tenermi cauto Temmilo invece ragionando sempre di queste cose chiedo così anche ti chiedo se non hai più scritto almeno perché è così è prosa la chiamiamo così e notavo ma l'abbiamo già detto che non tutto ma molti di questi frammenti hanno comunque un'intensità se uno chiude gli occhi li può ascoltare e la musica non è distante da certe tue poesie ma per me invece scrivere la corsa dei mantelli ma in generale scrivere qualcosa in prosa che non sia registro di classe è stato un atto contro natura un tentativo faticosissimo di così di uscire per un attimo cioè per un libro dal dal mio destino che sentivo poetico fin dall'inizio no? fin fin da bambino non ero capace di raccontare la mia vita non ero capace di raccontare nulla nemmeno quello che mi era successo il giorno prima nel senso proprio che mi inceppavo mi inciampavo perdevo il ritmo perdevo il filo oppure ingrandivo un dettaglio in un modo eccessivo quasi da film dell'orrore creando imbarazzo e turbamento in chi in chi mi ascoltava per non parlare dei dettati di scuola che già sentivo il bisogno di scrivere andando a capo creando dei corsivi delle parole più grandi o più sottolineate e quindi la corsa dei mantelli non lo so è nata forse un debito che volevo pagare ai grandi maestri romanzieri che mi hanno guidato per tanti anni e due in particolare Fiodor Dostoievski e Conrad ho portato questi due libri letti e riletti tante volte a Varsavia L'idiota e Lord Jim alla fine del 76 in un inverno micidiale di 20 gradi come minimo ma dentro il pensionato studentesco in cui mi trovavo ho cominciato a raccontare questa questa storia di Daina ho cominciato la corsa dei mantelli ma subito ho capito che sarebbe stato un disastro cioè che proprio non riuscivo che non non avevo quel talento architettonico prospettico per cui un narratore con lungimiranza vede quello che succederà no erano sempre barlumi frammenti coriandoli lirici spezzoni che tentavo di unire ma che poi invece andavano per conto loro con una forza centrifuga come dei sassi scagliati da un'esplosione che non riuscivano insomma a formare una figura e quindi poi c'era la questione del personaggio la poesia specialmente la poesia lirica non conosce il personaggio o meglio vive nei sotterranei del personaggio nelle correnti marine o carsiche che non arrivano ancora al personaggio alla persona all'identità per cui un sorriso un dolore un addio sono delle essenze degli universali concreti come si diceva un tempo e si staccano dalla dalla persona che che li ha provati ed esistono in quanto assoluti per per noi Blanchot diceva che sono delle forme dinamiche del verbo ossia in poesia vengono coniugati e mescolati tutte le possibili forme verbali la prima persona singolare quella del diario della confessione o del resoconto la seconda persona singolare quella del colloquio la terza quella del racconto la prima plurale quella della comunità la seconda plurale così rara e così bella quando c'è della della supplica dell'invettiva della della profezia e la terza plurale quella quella dell'epica nella poesia occorre che vivano insieme che scorrano nello stesso nello stesso fiume e in poesia non si scrive ciò che si sa ma si comincia a saperlo scrivendo mentre io allora mi ponevo il problema di dover sapere in anticipo ciò che sarebbe accaduto e questo per me era impossibile era proprio essenzialmente impossibile e dunque sì grande grande fatica grande proprio fuoriuscita da me stesso per per dare un senso per trovare una nota dominante se non un filo conduttore ai frammenti della corsa dei mantelli che poi anche quando sono più più distesi più più realistici hanno sempre questo fiume sotterraneo questa violenza dell'analogia che li disturba che li increspa e in questo senso provo a leggere una scena che mi è particolarmente cara siamo verso il finale del libro e c'è un duello tra Luca e Daina che cosa strana vedere dei ragazzi nella risaia con l'acqua fino al ginocchio sono fermi lì e potrebbero essere fermi da chissà quanti anni anche quella volta fu così eravamo in dieci quel giorno in via Selvanesco e Daina propose di fare un torneo di lotta la proposta fu accettata con entusiasmo e già stavamo scegliendo nel prato il posto più adatto quando Daina esclamò no no andiamo a lottare nella risaia perché nella risaia le chiese qualcuno così quello che perde starà con la faccia nell'acqua e non potrà più respirare esclamò Daina e sembrava che non desse peso a queste parole feroci e continuava a ridere prendendo in giro chi pareva più incerto la maggior parte del gruppo era titubante ma nessuno osava dire la sua paura i due o tre coraggiosi convinsero anche gli altri a cominciare la sfida il torneo iniziò con il combattimento più atteso tra Daina e Luca Luca sapeva che nella lotta a terra Daina era più agile e cercò di mantenere il combattimento in piedi con una serie di finte e schivate ma Daina approfittando del fondo scivoloso dopo averlo sbilanciato lo trascinò a terra l'acqua era alta quasi 30 centimetri e ognuno dei due sapeva com'era rischioso trovarsi al di sotto dell'altro così lottarono a lungo in ginocchio con grande abilità tra gli applausi di quelli che li circondavano ma a un certo punto Daina con uno scatto riuscì immobilizzare il suo rivale tenendolo fermo sotto di sé mentre l'altro tentava inutilmente di sfuggire alla presa poi accadde una cosa irreale sì irreale tutto cominciò quando Daina gli chiese se si arrendeva Luca rispose di no e continuò il suo tentativo di liberarsi ma si vedeva che ormai non c'era nulla da fare Daina a quel punto della lotta sentiva ormai di avere vinto perché Luca non sarebbe più riuscito a liberarsi dalla stretta e vedeva che la sua testa affondava lentamente nella risaia ma senza mai arrendersi così Daina lo strinse ancora di più al collo e quando lo affondò completamente nelle piante di riso cominciò ad ascoltare il suo respiro il sottile soffio d'aria che si mescolava all'acqua e al fango mentre tutti intorno la pianura sembrava più larga e le automobili passavano lontanissime e silenziose e anche gli altri ragazzi che facevano girotondo intorno alla scena e la proclamavano vincitrice sembravano lontani grida e bocche di cento anni fa Daina ascoltava il respiro di Luca solo il respiro finché l'acqua arrivò alla sua gola per alcuni attimi il respiro lottò con l'acqua nuotò in mezzo a lei cercando una strada poi si arrese ed Daina udì la calma immobile della risaia anche Luca aveva cessato di muoversi aveva capito che tutto questo era un sacrificio era immobile col viso pieno di fango a tutti noi sembrava giusto giusto stava per succedere qualcosa di giusto anche Luca lo voleva e non lottava più era così te l'ho detto un sacrificio un grande sacrificio il nostro sacrificio più grande non so io a meno che però benvenga se c'è qualcuno in sala che vuole fare una domanda ai due nostri ospiti tranquillamente altrimenti proseguiamo nel tour pordenonese non c'è nessuno allora io farei un altro applauso perché sono stati molto bravi e interessanti e vi saluto bene bravi non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno